28 maggio in sicilia buongiorno a tutti gli amici di bella sicilia che ci seguono tutti i momenti della giornata condividendo e apprezzando i nostri contenuti ed oggi vi regaliamo appunto questo dalla costa tirrenica dal mare di torrenova buongiorno con i colori del mare e con questa splendida giornata di sole oggi fateci sapere da dove ci state guardando che tempo fa nella vostra città mentre noi ci dirigiamo verso il mare verso il tanto amato mare siciliano e continuate a seguirci perché in questi giorni citeremo tanti luoghi speciali che vi immergeranno nelle bellezze della nostra terra grazie a tutti grazie a tutti